Secondo Greg Braden, autore di The Cancer Theory, le nostre emozioni possono cambiare il nostro DNA, e curare varie malattie, incluso il cancro. Greg Braden, afferma che il cancro non è solo un problema fisico, ma anche un problema emotivo e spirituale. Braden ritiene che siamo in grado di curare il cancro in soli tre minuti, cambiando la nostra mentalità. Questa teoria è stata pubblicata sulla rivista Nature nel 1996. Numerosi studi hanno dimostrato che i nostri pensieri ed emozioni sono estremamente importanti nel campo elettromagnetico e che le loro onde possono raggiungere un metro di fronte a noi. Gli scienziati affermano che le persone in futuro saranno in grado di generare energie esprimendo i loro pensieri. Quando padroni questa tecnica, puoi usare le tue emozioni per curare malattie e varie condizioni di salute. Ciò era dovuto un prodotto audiovisivo registrato in un ospedale in Cina. Riescono a ridurre un tumore cancerogeno di 2,5 volte in soli tre minuti. Alla fine, la scansione ad ultrasuoni ha confermato questo processo. Possiamo creare un problema campo elettromagnetico imparando a controllare le nostre emozioni. In questo modo, possiamo controllare tutto dentro e intorno a noi. Si ritiene che le nostre emozioni e sentimenti siano uno specchio della nostra anima, mostrando tutto ciò che abbiamo dentro. È molto importante fare attenzione a ciò che pensi e dici, perché il DNA assorbe tutto. Se vogliamo sperimentare alcuni cambiamenti, anche il nostro DNA deve cambiare.